secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie cintura frenesia fammi leggere l'effetto se porti un gioco rage sicuramente lo porterà il giorno dopo a quella che è stata la tua stream wow madonna steffetta è clamoroso ragazzi questa mezza carotta gg orrigorio questo che cazzo è ma che è su a blu metà alessandro bentornato gabricol bentornato arma grazie per il prime ori grazie per i 17 oscuri un bentornato salvo bentornato krimas petto trato light kiri ha bentornato simon bru grazie per il prime cosimo grazie per i 14 guai bentornato eduardo grazie v7 para bentornato tala bentornato mora bentornato marco bentornato grazie per i 18 ma te swing bentornato perchè non si non devo andare a tempo swing domon tommy bentornati max bentornato cadene bentornato luca bentornato nikus bentornato io ho spacker ma questo? ma questo? ma questo? ma questo hai visto? porco dio però io eviterò di parlare nel senso mister royale ma chi è mister royale ma che è ciccio gamer ma che è mister royale fino ad allora signori è quel momento il despaun qua tocca chiamare nonno sante e fino ad allora respawna lei beppe il ritorno ma brubbino non ci dovrebbe rimanere male nel senso che mi puoi sbannare sempre yuri in curva va dritto quanti giri so tre giri madonna ma dura un cazzo ragazzi ma è ritardato ok 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 no vabbè dice c'è statice super blocco jutsu super 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 blocco jutsu non blocco tutta la lobby e ottengo 10 secondi di vantaggio prima che gli altri possono domini tocca tirarla qua a fondo fidate c'è stato coso lì su uova destruzzo mica palline da golf oppure si potrebbe fare così è solo un'idea però che vuoi fare pazzo no ragazzi no ragazzi è cascata la pallina porco di è cascata la pallina guarda grande macchina gialla guarda non lo so non la conosco lucilla la conosco michelle la conosco la conoscevo moonride gli hanno detto che che su scacchi non levati rincoglionito ci sono 5 rare ghost in questa espansione l'altro è drago alternativo occhi blu e altre 3 che non mi ricordo bene ma c'è mago nero rara ghost mago nero rara ghost signori me lo tiro fuori perchè voi lo sapete che è tipo una delle mie carte preferite quindi mago nero pure rara un bel po' di culo più di un bel po' di culo più di un bel po' di culo quindi yugioh è questo amo no frate frate sono stato no ragazzi aò 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 4 gappa aò 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 Stallone Il primo canale su youtube Anni e anni fa si chiamava stallions tv E quindi c'è sempre stata sta cosa dei cavalli Carino carino stallion Pensa che bello se sapessi pure usare il cavallo a scacchi Sarebbe ancora più Incredibile come invece Eh si